in queste ore la nostra testata sta chiudendo un sondaggio rivolto agli insegnanti al personale della scuola chi ti piacerebbe avere come ministro dell'istruzione il 40 per cento dei docenti che hanno risposto a questa domanda dice vorrei avere come ministro mario pitoni ora non lasciamo da parte il caso personale perché non mi pare assolutamente opportuno parlare di questo ma più in generale mi viene da osservare che comunque questo è un bel riconoscimento un importante riconoscimento oltre che alla persona di mario pitoni ma è un bel riconoscimento anche al lavoro che la lega ha fatto in parte quando è stato al governo con aveva bussetti al ministero in parte quando è stata all'opposizione in parte quando è stata nel governo diciamo di unità nazionale quindi è un riconoscimento o no assolutamente sì ma come mario pitoni e come tanti altri che nella lega si sono occupati di scuole non solo fa evidentemente sempre piacere quando c'è un apprezzamento che poi si traduce anche in consenso elettorale io durante la mia campagna elettorale in ogni età però venivo raggiunto da delegazioni di insegnanti di tantissime categorie dai precari a quelli sul sostegno a quelli che sono immobilizzati al nord perché evidentemente trovano in noi soprattutto innanzitutto chi li ascolta perché guardate che siamo passati da ministri che auguravano ai precari ad esempio di cambiare lavoro perché non venivano considerati in grado di insegnare solo perché non avevano superato uno di quei concorsi a procetta e quindi prima di tutto l'ascolto è nei militanti perché siamo tutti militanti nella lega dal ministro al sottosegretario al deputato al consigliere comunale del paese di mili abitanti siamo tutti abituati a ascoltare i cittadini poi chiaramente dopo le promesse quando si ha la possibilità bisogna realizzare quello che si promette altrimenti si perde di credibilità ecco io penso che il centro destra tutto in particolare la lega abbia davvero la possibilità storica in riferimento alla comunità scolastica nei prossimi cinque anni la possibilità appunto di dimostrare di essere all'altezza il mondo della scuola è stato tradito umiliato e vilipeso dalla sinistra che per anni per decenni ha controllato il settore della cultura scuola università artisti intellettuali ha abbandonato ha tradito e il mondo della scuola diede già un segnale se lo ricorderà dopo la buona scuola di renzi arrivò il movimento 5 stelle premettevano hanno promesso tantissime cose sono finiti sui banchi a rotelle sono finiti nel condannare i precari sono finiti male soprattutto nel mondo della scuola e anche il movimento 5 stelle diciamo che ha avuto un segnale molto forte in senso negativo nel mondo della scuola adesso abbiamo vinto noi le elezioni per cui io avverto fortemente questa responsabilità da deputato della repubblica italiana ed è chiaro che ripeto chiunque vada a fare il ministro dovrà fare simpaticamente i conti con sottoscritto con la lega con mario pittoni con tante altre colleghe colleghi che si stanno occupando di scuola sul territorio parlando anche ad 8 milioni di studenti perché la scuola non è soltanto il personale precario la scuola non è soltanto il personale ata ma sono soprattutto 8 milioni di studenti con i rispettivi genitori e mi piace innanzitutto registrare che come primo successo ottenuto quando ero sottosegretario c'è stata la scuola in presenza impugnando anche le ordinanze laddove i presidenti delle regioni le volevano chiudere con motivi risibili grazie a tutti grazie a tutti